A proposito di riflessioni sulla rigidità o sul rigidismo, sono arrivate molte mail. Io voglio ringraziare tutti perché tutti hanno detto la loro e questo è bello, dire la propria, anche cose un po' contrarie alle mie, ma mi fa bene perché mi aiutano a riflettere, anche se io poi posso anche restare della mia idea, come ognuno di voi può restare della vostra opinione. E qualcuno mi ha detto che, mi ha richiamato meglio al valore della disciplina. Vedete che la disciplina è una cosa, il rigidismo è un'altra cosa. La disciplina, disciplina, è un nome bello perché viene da discepolo, da qualcuno che segue, da qualcuno che volontariamente segue quella disciplina perché ne è convinto, perché ha dentro la voglia di essere felice, di lasciarsi educare guardando maestri autorevoli. Quindi la disciplina è una cosa, le regole sono, è un'altra cosa, la rigidità è un'altra cosa. Un educatore deve dare delle regole, un educatore deve dare, deve indicare una disciplina, così come nello sport, no? Perché si chiamano molte attività sportive discipline? Proprio perché ci sono delle regole, ci sono dei tempi e ci sono dei programmi e degli orizzonti e degli scopi precisi da raggiungere. Quindi la disciplina non è la rigidità, no. E' il modo in cui io educo, che può essere positivo quando trasmetto una disciplina, trasmetto delle regole, oppure trasmetto questa disciplina e queste regole con rigidità. E la disciplina, quando è vissuta bene, le regole, quando vengono accolte perché si comprendono il valore, e della disciplina si comprende, come dire, la meta, queste rendono la persona libera e consapevole delle proprie azioni. Il rigidismo, no. Il rigidismo crea persone inconsapevoli, persone che hanno bisogno sempre degli altri, persone che non sono capaci di fare delle scelte libere, mature e autonome. Allora, disciplina e regola sono nomi e valori positivissimi. Il rigidismo, no. Il rigidismo è tutt'altro. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.